cosa succede quando facciamo un'inserzione di corrente e invece un prelievo di tensione quindi rispetto al primo caso cambiamo il tipo di inserzione ma lasciamo il prelievo di tensione quindi abbiamo una situazione di questo tipo lasciamo il prelievo di tensione quindi prendiamo la tensione d'uscita e la portiamo all'ingresso del beta però invece l'inserzione la facciamo diversamente prendiamo, questa è la IF questa è VF ci sommiamo mettiamo qua il generatore di Norton come vi ho fatto prima per comodità ci sommiamo alla corrente di ingresso del generatore e la buttiamo all'ingresso della rete di amplificazione questo è il meccanismo ovviamente di nuovo dobbiamo andare a vedere la rete del beta questa dovrà essere modificata quindi cosa vuol dire inserzione di corrente per la tensione? che la grandezza d'uscita è una tensione e la grandezza d'ingresso invece è una corrente quindi chiaramente scrivo qua che non ho più spazio A con F sarà in questo caso definito come XU come S come al solito ma XU è I con O è V con O e XS è I con S quindi è una imperenza dal punto di vista della dimensione allora per la rete beta espressione matriciale prima grandezza indipendente la grandezza che prelediamo prima grandezza indipendente quella che inseriamo una volta è la corrente poi qua c'è VF e qua c'è IO altra grandezza d'ingresso è riuscita altra grandezza d'ingresso quindi questo qua è beta qui c'è l'inverso dell'impedenza di uscita quindi c'è 1 su R o beta e qui c'è l'inverso dell'impedenza di ingresso 1 su R i beta e qui c'è la quantità che trascuriamo vedete questo in pratica è un un equivalente al parametro Y no? cioè sono tutte ammettenze quindi per comodità la scrivo come sistema che a volte è più facile da vedere o beta per V con O più VF su R o beta e qui c'è IO uguale a VO diviso R di F quindi circuito equivalente rappresentiamolo ovviamente questo è VO e IO R i F come al solito e di qua invece abbiamo eh no ho sbagliato di qua abbiamo che qui c'è questo è R i beta qui c'è la corrente che somma i due correnti quindi è diversa la situazione la corrente d'uscita quando sommo due correnti vuol dire che ho due rami in parallelo quindi cosa vuol dire che la I F sarà uguale a una corrente beta VO più la corrente VF su R o beta che in pratica è la corrente che passa attraverso una resistenza R o beta se la tensione sui capi è VF quindi è questa qua il circuito equivalente diventa questo che io posso prendere e sostituire direttamente qua dentro giusto per non perdere l'abitudine ripassiamo un po' le definizioni di beta in questo caso vedete beta come è definito qui è IF su VO per VF uguale 0 vedete è diversa la definizione rispetto al caso prima anche dimensionalmente questa è l'ammettenza nel primo caso era VF su VO quindi era un numero puro nel secondo caso è un'impedenza in questo caso è un'ammettenza chiaro cambia totalmente il significato però è sempre la grandezza inserita diviso la grandezza prelevata poi RO beta è invece questa siccome la scrivo a volte invertita a volte diretta è sempre un'impedenza ed è V con F sui F però stavolta calcolata per VO uguale 0 e RI beta è VO sui O calcolata per VF uguale 0 quindi ogni volta vanno considerate diversamente bene a questo punto andiamo a fare ragionamento sulla funzione di trasferimento e per fare quel ragionamento dobbiamo prendere questo circuito equivalente e sostituirlo al posto del blocco del beta facciamolo quindi abbiamo IS e RS questo va all'ingresso di A no va bene lasciamo questo qui abbiamo detto RL prelievo di tensione e qua cosa abbiamo detto abbiamo detto che sommiamo le correnti quindi questa qui va a sommare in questo modo e a posto del beta mettiamo il circuito equivalente quindi ho due correnti una che è beta VO e l'altra che dipende da R o beta da questa parte questa è F e poi qui ho R il beta quindi questo è il circuito allora stesso discorso introducendo A con E quindi A con F è per definizione VO diviso IS quindi è un'impedenza allora introduco A con E come VO su IS quando spengo il generatore dipendente per beta vale 0 allora se beta è uguale a 0 ma il meccanismo l'avete capito VO è uguale ad A E per IS ma se beta è diverso da 0 si vede vedete cos'è beta VO questo generatore corrente è esattamente in parallela a IS quindi di fatto posso portarlo posso sommare due come se avessi quando beta è diverso da 0 ho lo stesso circuito di prima però con l'ingresso modificato il generatore ingresso invece di essere IS è IS più beta VO quindi qui ho VO uguale ad A con E che moltiplica IS più beta VO e allora a questo punto porto tutti i termini con VO da una parte i termini con IS dall'altra parte e quindi VO su IS che è A con F viene uguale a con E diviso 1 beta meno beta con E quindi ovviamente non vi meraviglia più diciamo è scelto in modo questo criterio è scelto in modo tale che venga sempre la stessa quantità ok quindi la funzione di trasferimento viene sempre nello stesso modo tenete presente che A con E e beta di nuovo hanno una definizione differente vediamo come è fatto A con E in particolare la definizione abbiamo visto e vediamo quanto vale disegniamo il nuovo circuito col generatore di ingresso qui facciamo così al posto di A mettiamo il circuito equivalente quindi RI poi A VI dove VI è questo uso sempre lo stesso circuito per comodità per non stare a cambiare tutto ogni volta quindi questo è A poi la tensione uscita va sul carico e poi va in ingresso alla rete beta che era fatta così c'era semplicemente qua RI beta e poi qui la corrente IS che vi abbiamo portato a sommare viene dalla somma di due contributi beta I beta VO che è questo e poi RO beta d'accordo quindi A con E è VO diviso IS quando spengo il beta e vabbè si vede abbastanza bene cosa il calcolo è abbastanza facile a fare perché vedete quando spengo beta in ingresso cosa ho? Ho tre resistenze in parallelo RS RI e RO beta a qui arriva una corrente IS quindi la tensione capi di queste resistenze che è la tensione in ingresso della rete di azione sarà IS che moltiplica RS parallelo RI parallelo RO beta d'accordo? a maniera in ingresso quando ho VI a questo punto la tensione di uscita è una partizione di A per VI quindi VO è uguale ad A per VI vedete una partizione che cosa c'è? di qua c'è RL parallelo RI beta e a dividere c'è RL parallelo RI beta più RO quindi a questo punto con E è uguale a VO su IS e viene A per VI non lo metto perché metto quello do qui metto il partitore RL parallelo RI beta diviso RL parallelo RI beta più RO tutto per RS parallelo RI parallelo RO beta vedete quindi A come al solito a con E dipende da un sacco di cose da cosa metto come carico cosa metto come giocatore ingresso le impienze ingresse uscita e beta e così via chiaramente tutto entra dentro tutto entra dentro questo questo meccanismo ok quindi tenete presente quando facciamo il ragionamento per fare un attimo il ragionamento su sia i poli sia gli zeri sia invece il fatto che la funzione di trasferimento complessiva diventa indipendente da A se guardate queste espressioni qui dovreste notare un po' di cose no innanzitutto chiaramente se queste impedenze ingresse ed uscita eccetera sono resistive cioè non introducono poli nuovi i poli di A con E sono i poli di A beh quindi dal punto di vista della posizione di poli non è non è non è cambiato granché dal punto di vista del del valore di A con E esatto di nuovo a me non è che interessa a me interessa che il beta con E quindi il guadagno d'anello sia molto grande quindi se A è grande a con E sarà grande per un valore esatto intanto mi importa poco perché sceglierò un valore tale per cui a con E diventa trascurabile d'accordo quindi di fatto anche se a con E viene influenzata da queste altre quantità dal punto di vista dell'effetto di rendere la funzione di trasferimento più robusta dal punto di vista dell'effetto di l'effetto sui poli di fatto cambia abbastanza poco d'accordo ora detto questo almeno per concludere questa parte vediamo l'effetto sull'impedenza ingresso si vado veloce sentite un po' o no a scrivere forse che chiaramente quando alla lavagna uno scrive più lento perché si è spostato ora poi o no si è spostato ora la lavagna sarebbe non ce la farei ok quindi ora mettiamoci un attimo qua guardiamo il discorso dell'impedenza di ingresso cosa è abbastanza facile perché questo è il circuito dobbiamo mettere un generatore di prova ideale stavolta ideale vuol dire che RS tende infinito perché è un equivalente di Norton quindi il generatore di corrente è ideale se l'impedenza parallelo tende infinito e poi dobbiamo calcolare misurare insomma in questo caso calcolare perché stiamo facendo due conti la tensione la tensione ai capi del generatore di corrente quindi poi il rapporto tensione VS diviso IS mi dà la resistenza vista dal generatore ingresso che è la resistenza di ingresso quindi ci mettiamo su questo su questo grafico e vedete cosa c'è in ingresso ho tre resistenze in parallelo RS RI e RO beta alimentate da a cui arriva la corrente proveniente da due generatori IS e beta VO quindi l'attenzione ai capi di queste resistenze è la VS anche quindi cosa faccio VS sarà uguale al parallelo di queste tre resistenze per la somma delle correnti che arrivano ok letto lo faccio allora scriviamo cosa abbiamo detto RF sarà VS su IS nel limite di generatore di ingresso ideale stavolta vuol dire RS che è definito poi ho detto VS è uguale a IS più beta VO la corrente complessiva che arriva alle tre resistenze in parallelo per il parallelo delle tre resistenze che sono RS RI R e R beta poi dico ma io VO so come dipende da IS perché VO è uguale ad A con F per IS cioè è uguale ad A con E diviso 1 meno beta con E per IS allora questo lo sostituisco al posto di VO e ottengo VS uguale a IS più beta A con E IS diviso 1 meno beta A con E per RS parallelo RI parallelo R a questo punto io posso portare IS fuori qui c'è 1 meno beta con E qua c'è 1 più beta A con E meno beta A con E per RS parallelo RI parallelo R beta e ora questo ritaglio ok sempre lo stesso vedete alla fine poi i meccanismi sono più o meno sempre uguali da questo punto cosa mi viene se faccio VS diviso IS mi viene questa roba diviso il fattore di reazione poi tiro il limite per RS che tende a finito e mi viene RF uguale quindi VS su IS per RS che tende a infinito RS nel parallelo se tende a infinito sparisce dal parallelo quindi mi viene RI parallelo R r o beta e invece mi viene a dividere 1 meno beta beta non dipende da RS ma A con E dipende da RS quindi A con E per RS che tende a infinito questo A con E per RS che tende a infinito vuol dire il limite di A con E per RS che tende a infinito ma insomma è un limite facile perché se guardiamo un attimo come è fatto A con E RS compare nel parallelo vedete RS compare qui quindi quando faccio il limite per RS che tende a infinito semplicemente devo togliere RS al parallelo ok quindi ecco però che cosa si può dire che cosa si può dire vedete è una cosa che non abbiamo ancora visto abbiamo nella resistenza d'ingresso un fattore di reazione che capita al denominatore quindi con l'inserzione di corrente noi abbattiamo la resistenza d'ingresso negli altri due casi precedenti abbiamo fatto un'inserzione di tensione e quindi la resistenza d'ingresso aveva fattore di reazione al numeratore quindi avevamo resistenze d'ingresso alte stavolta con l'inserzione di corrente abbiamo resistenze d'ingresso basse perché il fattore di reazione stavolta capita al denominatore per la resistenza d'uscita giusto per chiudere questa terza cosa per la resistenza d'uscita il ragionamento è praticamente uguale a quello che abbiamo fatto la prima volta facciamolo un attimo vedete che come comincio a farlo avete un un déjà vu resistenza di uscita allora come facciamo abbiamo detto la resistenza d'uscita è la tensione a vuoto di uscita diviso la corrente di uscita di cortocircuito quindi la prima è il limite siamo la quantità d'uscita è una tensione quindi il limite per il carico che tende a infinito della tensione di uscita diviso il limite per la resistenza del carico che tende a zero perché sono in cortocircuito della corrente di uscita la scrivo in funzione della grandezza di uscita che è la tensione di uscita quindi V diviso RL bene in realtà l'ho chiamata VO quindi facciamo sta cosa VO VO diviso RL ok poi divido per IS in modo che questa sia la quantità che ho chiamata con F e anche questa questa qua pure no chiaramente a con F è a con E diviso 1 meno beta a con E quindi a questo punto il limite come viene al numeratore ho il limite di a con E diviso 1 meno beta a con E denominatore avrò limite per RL che tende a 0 di 1 su RL per a con E diviso 1 meno beta a con E quindi due limiti sono differenti e il solito ragionamento che abbiamo fatto prima dobbiamo ricordarci un attimo com'è fatta a con E mettiamola un attimo a con E era A dunque cosa abbiamo abbiamo una tensione d'uscita quindi c'è un partitore in uscita quindi devo moltiplicare per RL parallelo RI beta e dividere per RL parallelo RI beta più RO e poi in ingresso invece abbiamo semplicemente le resistenze in parallelo perché il genere di ingresso è una corrente ok quindi questa avevamo scritta dattici un'occhiata per verificare che non abbia sbagliato allora quindi quando vado a fare il limite devo stare attento il limite dov'è che incide qui e poi in a con E perché a con E dipende da RL allora in particolare come ne dipende vedete se RL va a 0 questo numeratore va a 0 il denominatore va a RO quindi non succede niente e quindi a con E va a 0 d'accordo? cosa vuol dire che qui per esempio questo beta con E va a 0 e quindi sotto rimane soltanto 1 anche qua a con E va a 0 ma anche RL va a 0 quindi ho come abbiamo trovato altre volte un limite 0 su 0 questo devo fare un attimo con calma ok non posso farlo al volo devo vedere a cosa tende quando invece RL tende a infinito che è il limite di sopra che cosa succede? semplicemente nel parallelo RL sparisce quindi conta soltanto l'altra resistenza si va a un valore finito ok quindi quello devo semplicemente togliere RL va bene altra cosa poi giusto per fare un po' meno conti vedete in pratica di nuovo a con E sia numeratore sia denominatore e quindi i termini che non dipendono da RL si semplificano sopra con sotto e se ne vanno quindi cosa ottengo? R.O.F. uguale allora facciamolo allora quello che c'è qua sopra sarà A con E di A con E mi rimane soltanto i temi che vanno via i temi che non dipendono da RL quindi rimane R i beta diviso R i beta più R O ok diviso 1 meno beta A con E per RL che tene infinito questo è il numeratore quindi niente di diciamo non c'è nessun limite particolare come dicevamo semplicemente sostituito RL infinito denominatore che cos'è che rimane rimane limite per RL che tende a 0 di cosa? di 1 su RL per A con E a posto di A con E sostituisco questo ma i temi A e l'ultimo ho già semplificati mi rimane solo questo nel parallelo nel parallelo RL parallelo R i beta tende a RL sotto invece questo tende a 0 mi rimane soltanto R O allora questo qua per capirsi scusate facciamo così così viene più immediato il parallelo di RL R i beta lo scrivo per esteso qui ho un RL per R i beta diviso RL più R i beta questo è il numeratore al denominatore mi rimane un termine che è 1 più RL parallelo R i beta più R O ok? ora quando vado a fare il limite questo qui tende a 0 e quindi rimane soltanto R O questo qui R L tende a 0 e quindi rimane soltanto R i beta questo R L si semplifica con questo e poi mi rimane R i beta e R i beta che se ne vanno quindi rimane soltanto 1 su R O ok? ah no 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 è che io ho copia domanda quindi questo R O è al numeratore lo porto sopra vedete qui mi viene questa cosa che è il parallelo di R O a R i beta quindi questo posso scrivere come rischiamo da capo così poi allo cerchio R O F viene uguale a R O parallelo a R i beta tutto diviso per 1 meno beta A con E nel caso R L che tende il finito ora io l'ho fatta un po' veloce perché questo è esattamente lo stesso procedimento che abbiamo già fatto nel primo caso no? è esattamente lo stesso procedimento quindi ora non lo riconoscete uguale perché l'abbiamo fatto da poco ma è esattamente lo stesso quindi qual è l'effetto quello che abbiamo visto prima cioè sia nel caso di inserzione di tensione prelievo di tensione sia nel caso di inserzione di corrente prelievo di corrente che in questo caso l'impedenza di uscita è uguale a quella di partenza in parallelo all'ingresso del beta diviso il fattore di reazione quindi di fatto indipendentemente da quella da quale che sia l'inserzione col prelievo di tensione si abbatte l'impedenza di uscita ok? questo è il meccanismo principale quindi vedete ci sono delle ricorrenze delle regolarità nella cosa che abbiamo diciamo visto per ispezione dei vari casi ora poi alla fine li riassumeremo un po' tutti quando finiamo di vedere l'ultimo caso non è questo però lo facciamo la prossima volta d'accordo? ci fermiamo qua per oggi è ok Grazie.